È il caso di dire che la squadra di Cudini, che mai in campionato ha smarrito il gioco, anche nelle giornate meno propizie, torna a vestire i panni di formazione cinica, capaci di giocare a tratti con autorità sul campo di una delle squadre più attrezzate della categoria. Il 2-0 del Tubaldi, recriminazione a parte dei leopardiani, sembra fotografare al meglio lo sviluppo della contesa, nella quale i rosso-blu sono sempre lucidi nel rispettare le consegne in campo. Un po' meno per la Re Canatese, che nel primo tempo si accende a tratti, senza però mai dare la giusta continuità alla propria manovra. La giornata del notaresco, che torna a vincere in trasferta dopo quattro mesi di astinenza, inizia subito con il piede giusto. Sono trascorsi appena 90 secondi, quando Candellori, forse il migliore, in fase di pressione soffia la sfera a Nodari, ingenuo nella protezione. La mezzala poi rientra sul sinistro e fulmina sprecacee sul primo palo. La Re Canatese, colpita a freddo, prova a reagire, appoggiandosi alla qualità dei singoli. Al sesto, Pera, di testa, cattura un pallone vagante in area. Monti è attento, ma è il notaresco ad avere subito la palla del 2-0. Nello spazio vola via Moretti, che scavalca con un pallonetto l'estremo di casa. La sfera è alta, seppur di poco. Con il passare dei minuti, la Re Canatese, anche per necessità, alza ritmi e baricentro. E qualcosa il rosso-blu devo concedere. Al 25esimo, Pera crea le premesse per il pari. Controllo di destro in area e battuta di sinistro. Sfera sul fondo. Ed è ancora il bomber di casa a non trovare la palla sulla rasoiata al 29esimo di Giaccaglia. Gli animi in campo si scaldano e Alessandrini viene spedito fuori dal direttore di gara al 33esimo, dopo aver protestato per un offside fischiato a Sivilla. Il notaresco rischia ancora al 37esimo. Sivilla, liberato al tiro, sparacchia fuori da due passi. Attutito il rischio, il team di Cudini torna a pungere. Minuto 39. Liguori taglia per Moretti, che da due passi incorna out. E poco prima della sosta, Sieno, dopo uno scambio al limite, conclude in porta. Marchetti è providenziale nella chiusura. Al rientro in campo, Cudini deve apportare una variazione. Fuori Salvatori, che accusa problemi muscolari. Dentro Rucci, con Candellore che si abbassa sulla linea dei terzini e l'ex colonna al centro. Il raddoppio del notaresco è quasi immediato. L'arbitro vede un fallo di mano di Monti sulla conclusione balistica di Rucci. Tra le proteste dei locali, Minella, dalla dischetto, spiazza il portiere avversario e fa 12 in campionato. I rosso-blu potrebbero dilagare al quattordicesimo. Sprecacè si salva con l'aiuto della traversa sull'inzuccata di Bontà, azionato dal solito Candellori. Alessandrini prova a cambiare qualcosa, dando maggiore peso specifico alla linea avanzata. Al diciassettesimo, Monti dice di no alla girata ravvicinata di Pera. I gelorossi di casa continuano a spingere, senza però trovare grandi spazi nella retroguardia avversaria, sempre molto ordinata nella gestione. Prima della fine ci prova Rinaldi, ma la girata è alta. Ma è poco per scalfire le certezze del notaresco che si riprende la terza piazza in classifica, ora in solitaria, in attesa dell'impegno di mercoledì al Savini con l'Agnonese. Codini, una vittoria costruita grazie al gol in apertura. Su quell'episodio la squadra ha costruito una prestazione di grande attenzione, soprattutto nella fase di non possesso. Sì, è vero, siamo andati su tutti in vantaggio, la prima parte l'abbiamo fatta un po' sicuramente nella fase di non possesso, anche perché la Reganatese ha spinto parecchio, ha avuto un buon palleggio, quindi ci aveva quasi costretti a fare questo tipo di partita. Però devo dire che i miei sono stati bravi, ordinati soprattutto, però nel secondo tempo quando i ritmi si sono abbassati non si è meno di fuori con il nostro palleggio, con il nostro modo di essere. Quindi abbiamo concretizzato il calcio di rigore, abbiamo creato diversi presupposti per poter fare il 3-0, senza rischiare grassissime cose, soprattutto nella seconda parte. Il calcio è fatto anche di numeri, l'ultima vittoria in trasferta da 7 ottobre e vincere su questo campo contro una delle squadre probabilmente più attrezzate in questa categoria, dalla misura della forza del notaresco? Questo non lo so, sicuramente noi affrontiamo sempre per andare fuori o in casa per poter fare il bottino pieno. Oggi era un banco di prova importante perché dovevamo dar seguito alla vittoria di domenica scorsa, ci siamo riusciti oggi su un campo difficile come quello di Recanati con una squadra allestita e formata da giocatori importanti. Quindi per noi è stato un grosso banco di prova e un grosso stimolo per le restanti partite che ci porta da qui al raggiungimento dell'obiettivo. È stata una partita strana, oggi la squadra era positiva, propositiva, purtroppo abbiamo subito subito il gol a inizio gara che ha condizionato poi tutta la partita, anche se soprattutto nel primo tempo abbiamo creato diverse possibilità per pareggiare, abbiamo avuto diverse palle e goli, il che non era facile, ma anche attraverso un buon gioco. Però poi c'è stato dato, quando nel primo tempo c'era un rigore evidentissimo supera, poi c'è stato dato uno contro all'inizio del secondo tempo che sicuramente ha inciso sul risultato finale.